Si scia finalmente, la tradizione dell'Immacolata in Abruzzo è rispettata. Dopo una stagione disastrosa l'anno scorso a causa della chiusura degli impianti causa Covid, le stazioni invernali scaldano i motori. Nel comprensorio a Remogna-Pizzalto-Montepratello, già dal 2 dicembre c'è stata una parziale apertura. Nel comprensorio di Lucoglio-Rocca di Cambio prosegue invece la sistemazione delle piste nella parte bassa e a Campo Felice si dovrebbe tornare a sciare nella giornata di sabato, meteo permettendo. In queste ore si sta rinforzando la parte bassa della stazione grazie all'innevamento artificiale, mentre a Monte c'è già la giusta copertura. Grande attesa a Campo Felice, meta presa d'assalto da Asciatori del Lazio, le regole sono chiare, green pass e mascherina e sarà obbligatoria da gennaio la polizza assicurativa, che almeno a Campo Felice si potrà acquistare assieme allo ski pass. Stesso obiettivo aprire sabato per Passo Lanciano-Maielletta. Stiamo riparando per l'apertura di sabato, stiamo facendo neve artificiale sulle piste un pochettino più in basso, la parte alta è coperta da neve naturale, pertanto ci stiamo riparando ad una buona apertura per sabato prossimo, il prossimo weekend. Certamente confidiamo anche nelle precipitazioni, visto che le previsioni del tempo danno neve sia giovedì che venerdì, speriamo in questo e confidiamo di fare una buona apertura sabato, in modo da poter recuperare quella disastrosa stagione che è stata quella di l'anno scorso. Disastrosa è dir poco perché avevamo due metri, tre metri di neve sulle piste e purtroppo la stazione è rimasta chiusa, con danni economici notevoli sia per tutto per quanto riguarda la stazione di sci Campo Felice, sia per le stazioni qui vicino e sia per tutto l'indotto, ristoranti, bar, scuole di sci e quant'altro. Ripeto, confidiamo in una buona stagione, stiamo anche preparando quelle che sono le precauzioni per il Covid, siamo anche pronti posso dire e speriamo e confidiamo in una buona stagione. A Ovindoli, Monte Magnola, si scia già da ieri, con gli impianti aperti Monte Freddo, Campetto Alpini e Capanna Brin, telecabbina Le Fosse, solo per arroccamento e le piste Monte Freddo, Panoramica, Settebello, Tomba e Brin con diversi rifugi aperti. Tutto regolare anche a Campo Imperatore, dove si è aperta questa mattina la stagione scistica, dopo il guasto al cavo dell'elettricità, riparato tra mille difficoltà ma in tempi record. Oggi è aperta solo la seggiovia delle Fondari, nei prossimi giorni si aprirà anche la Scindarella. C'è tanta neve e anche se con molto vento e condizioni non proprio ottimali dal punto di vista meteo, la gente è salita lo stesso e sono state aperte le strutture ricettive, ristorante e bar La Villetta a Fonte Cerreto con l'hotel Cristallo e rifugi in quota a Fondari Ostello di Campo Imperatore, regolarmente aperta ad accogliere aquilani e turisti, anche la scuola sci a Sergi Gran Sasso con i Nolo Ski.